L'idea della verità, pensavate che gioco ha accannato sta serie? Uomini di poca fede Bella ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo episodio di Dragon Ball Dopo parecchio tempo ma c'è stato chiaramente un motivo Non riuscivo a fare quella benedettissima missione Dentro la navicella di Freezer Ci sono riuscito e quindi oggi siamo tornati Con una pausa anche dal Road to Division 1 Perché penso che in questi giorni abbiate visto parecchio Road to Division 1 Quindi cambiamo anche gioco, basta FIFA Perché in questo periodo mi sono accorto che vi sono passato solo FIFA da un bel po' di tempo Quindi, allora, siamo qui con il nostro Johnny Banana A livello 19 e andiamo subito in campo ragazzi Andiamo subito a manetta, oggi dobbiamo fare di tutto e di più Perché siamo ACAB Ok ragazzi, siamo qui Sì, chiaramente, fai attenzione, certo me lo dici tutte le volte Della storia del corpo, cioè Ah sì, è vero, perché giustamente lo diamo L'impossessazione del nostro corpo, visto che eravamo Giniu Già la musica, ragazzi, non so se la sentire È parecchio intrigante So, what are you doing there, buddy? Hey, our fight isn't over yet Si parte, eh lo sapevo Vediamo come ricordo i comandi, momenti Ok, è già finita Mi giro non mi ricordo un tasto Giusto, a là Giniu è veramente un deficiente Cioè, per due volte Grande Guldo, tu sì che sei uno di noi Ah, comunque alla fine è andata così Ci abbiamo messo un po' di tempo Ma per la madonna Ora Perfetto Ecco Tima, ma là che mi fai sospendere a fa Ah, ma che me frega a me Ma dove sta No, ma che sto So a morire, ragazzi Aspettate Come si faceva Ok, prima sta cazzola Perfetto Ho preso un colpo Non mi ero accorto della mia vita Vai, sei morto, per forza Eh no, un liscio clamoroso Ora Dai, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo No, non è vero Ce l'abbiamo fatta Ora sì Let's finish this No No Please, make it in time Finally, it's all back to normal D-Dammit This time Perfetto Change now I won't let you E' così Genio si leva dal cazzo You're pretty sharp It must have been you snooping around I hope you weren't thinking of interfering That'd be a mistake A costly mistake I will eliminate you here and now E allora Per non spoilerare di più la storia Ci salutiamo proprio così ragazzi Quindi vi invito a seguire Con attenzione il prossimo episodio Nel quale vedrete Lo scontro Con chi Ha modificato la storia Con chi è andato a scompigliare Di fatto Gli avvenimenti Quindi intanto Lasciate un pollice in su Se questo video vi è piaciuto Noi Vi ricordo Ci vediamo con i prossimi video Con i prossimi episodi Di Dragon Ball Xenoverse Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao a tutti